buonasera a tutti cripa diego allora come occupare bene lo spazio delle tasche del jacket lingotti di piombo fatti nello stampo vedete di circa un chilo di peso allora ecco qua la tasca del jacket per farvi vedere questa è la taschina che c'è interna ce ne stanno in pratica quattro e ci stanno bene avanza anche spazio volendo per altri due oppure per appunto rimettere la tasca ecco qui circa quattro chili di piombo come si vede e volendo si può rimettere anche la tasca perché rimane comunque spazio ancora disponibile tanto per farvi vedere cerniera e voilà la nostra tasca bella completa e nel caso di sgancio rapido si sgancia appunto qui vedete qua i pesi cadono sul fondo pesi fatti in casa colati per usare bene lo spazio delle tasche del jacket questo è lo stampo fatto su misura vedete sono circa lingottini di piombo da un chilo l'uno una buona serata a tutti